Le analisi che abbiamo trovato dimostrano che i FAS presenti nell'acqua sono molti, molti, molti di più rispetto a quelli che sono stati fino ad oggi rilevati dall'ARPAV e da altre agenzie. Questo è gravissimo, è già stato informato il NOE. Oltre ai FAS nell'acqua contaminata ci sarebbero altre sostanze che presentano una struttura chimica analoga ma i cui livelli non vengono presi in considerazione. Abbiamo scoperto che la Miteni all'interno della sua barriera idraulica aveva analizzato anche i fratelli dei FAS e abbiamo visto che solo per il FOA e il FOS, che sono le catene a 8 atomi, abbiamo trovato da un 15% a un 53-57% in più rispetto all'inquinamento normale. La denuncia è partita dagli esponenti del Movimento 5 Stelle Veneto che hanno portato le carte ai carabinieri del NOE. La contaminazione da FAS interessa parte delle province di Padova, Vicenza e Verona, circa 178 km2 del nostro territorio. Già nei mesi scorsi Greenpeace aveva denunciato che ad essere a rischio erano quasi 800.000 veneti. I grillini chiedono ora che l'Istituto Superiore di Sanità spieghi il potenziale nocivo anche di questi altri composti. In logica, io dico, hanno la stessa struttura chimica, cambia solo nello spazio dove sono messi questi atomi, penso che siano nocivi allo stesso modo. Ma questo deve essere l'Istituto Superiore di Sanità che ce lo dice, ci deve fornire dei limiti ed è quello che Zolezzi alla Camera lunedì presenterà. E noi lo chiediamo invece in Regione Veneto. E noi lo chiediamo invece in Regione Veneto. Grazie a tutti.